La risorsa Bosco da scoprire, valorizzare e rendere economicamente vantaggiosa. È sul Bosco che si gioca gran parte del futuro economico della Basilicata, per questo Basilicata Fiere è inteso promuovere una rassegna dedicata al settore. Risorsa Bosco è la prima fiera sul Bosco del Centro-Sud, un progetto condiviso dal Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata. Il focus della rassegna fino a domenica prossima sarà la finiera del Bosco, con oltre 100 espositori operanti nel settore legno, energia edilizia sostenibile, prevenzione del dissesto idrogeologico, incendi, biodiversità, turismo e sana alimentazione. L'iniziativa è stata presentata dal Presidente di Basilicata Fiere, Fernando Barbaro. Presentare risorsa Bosco è stata una esigenza, una necessità voluta da molti imprenditori e da coloro che effettivamente vedono nella risorsa Bosco una risorsa per lo sviluppo economico e istituzionale dell'intera Basilicata. è una ricchezza incompensurabile, una ricchezza che va curata perché ci garantisce non solo un'economia ma anche una salubrità ambientale, una ricchezza anche da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista della formazione, della ricerca. Cioè è una realtà intorno alla quale effettivamente possiamo guardare al futuro con una certa prospettiva molto più agevole rispetto al passato.